Hola a tutti ragazzi, mi sono il vostro video che oggi come state vedendo siamo qui in un mini video in cui troverete proprio in alto, qui in alto a destra più o meno alla vostra destra il sondaggio Volete che torno a fare video per voi? Poi ragazzi il format vedremo se gaming, se vlog o qualche sia challenge, adesso vedrò che cosa inventarmi E un mini video per dire mi volete ancora fare video? Vi sentite la mia mancanza? Dubito eh, però se la sentite ragazzi mi raccomando rispondetene il sondaggio Sì se volete il mio ritorno, no se mai devo attaccare alla minchia, detto questo ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi